Il sequestro riguarda un imprenditore già coinvolto in passato in complesse vicende giudiziarie che hanno fatto luce su quella grave speculazione edilizia passata alle cronache come sacco di Palermo. In azione gli uomini del nucleo speciale di polizia valutaria che hanno eseguito il decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, sequestrati in totale 8 immobili, tra cui 4 ville di lusso. Si trovano tutte a Palermo e hanno un valore complessivo stimato di oltre 3 milioni di euro. Il provvedimento, dicono dalla finanza, scaturisce a seguito di nuovi approfondimenti disposti nei confronti dell'imprenditore che hanno consentito di sequestrare a più riprese tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022 disponibilità finanziaria per oltre 35 milioni di euro. Oltre agli 8 immobili sono state sequestrate 16 polizie assicurative per un controvalore di circa 2 milioni di euro, 7 depositi titoli per un controvalore di oltre 1 milione e 200 mila euro, quote di fondi di investimento, alcune delle quali detenute all'estero per oltre 3 milioni, 11 conti correnti bancari e postali con un saldo complessivo superiore a 500 mila euro, sequestrate disponibilità finanziarie detenute all'estero per oltre 25 milioni e mezzo di euro depositate su rapporti di conto esteri intestate all'imprenditore palermitano e a fondazioni allo stesso riconducibili con sede in Lickstein. Le indagini, concludono dalla Guardia di Finanza, hanno permesso di individuare attraverso l'analitica ricostruzione e comparazione di tutte le entrate e le uscite conseguite dalle persone esaminate significative sproporzioni fra le fonti, lecitamente conseguite e dichiarate i costi sostenuti nell'arco temporale analizzato e le disponibilità liquide detenute. Il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dell'imprenditore palermitano è attualmente in corso, solo in caso di confisca definitiva le disponibilità ad oggi sequestrate verranno definitivamente acquisite al patrimonio dello Stato.